Dopo aver studiato musica, nel 1955 inizia ad esibirsi in alcuni spettacoli goliardici. Nel 1956 debutta alla radio, nella trasmissione La Famiglia dell'Anno, mentre l'anno dopo partecipa al varietà televisivo Voci e Volti della Fortuna, legato alla Lotteria di Capodanno. Inizia ad incidere i primi 45 giri per la Vis Radio. Etichetta napoletana, scritturato nel 1960 dalla RAI. Si trasferisce a Milano, dove fa amicizia con un altro giovane siciliano emigrato, Pippo Baudo, e dove lavora con molte grandi orchestre come quelle di Piero Umiliani e di Pippo Barzizza, e dove ottiene un contratto discografico con la Sprint. Casa Satellite della Durium, è ospite fisso nel 1961 del programma Il Fico d'India, realizzato da Baudo insieme a Enzo Consoli.